Capitolo quindicesimo. Due paia d'occhi lo fissavano incerti. Non vedo che possiamo dirvi signor Poirot, siamo già stati interrogati dalla polizia. Poirot spostò lo sguardo dall'uno all'altro. Nicholas aveva 18 anni e Desmond 16, ma sarebbe stato difficile definirli ragazzi, entrambi si studiavano di ostentare un contegno da adulti e ci riuscivano talmente bene che se uno li avessi ascoltati a occhi chiusi il loro modo di parlare sarebbe sembrato addirittura quello di uomini maturi. Per fare un favore a un'amica sto svolgendo indagini sulla persone presenti alle preparativi di quella festa dell'Halloween, disse Poirot. Voi due eravate a casa Drake? Sì, c'eravamo. Finora ho interrogato le donne delle polizie, ho parlato con il medico, precisamente il medico che ha esaminato per primo il corpo di Joyce, con un insegnante presente sia i preparativi sia alla festa, con la direttrice della scuola, con i genitori della povera ragassa. La polizia mi ha dato tutte le informazioni sul caso e ho raccolto molti pettegolessi. A proposito, mi hanno detto che avevate una strega qui a Woodley Common. Nicholas e Desmond scoppiarono a ridere. La signora Goodbody, volete dire? Sì, è venuta a ricevimento e ha fatto parte della strega. Adesso mi sto rivolgendo ai rappresentanti della gioventù a quelli che hanno vista acuta, audito fine, cultura scientifica aggiornatissima e un'escellente capacità di valutazione. Mi interessa, mi interessa molto conoscere il vostro punto di vista su questo caso. 18 e 16 anni, pensò guardandoli. Giovani per la polizia, ragazzi per lui, adolescenti per la stampa. Comunque li si chiamassero, erano i prodotti della nuova società. Nessuno dei due era stupido. Anche se non doveva avere quell'intelligenza superiore che lui gli aveva attribuito per lusingarli e indurli a parlare. Entrambi erano intervenuti al ricevimento, e prima avevano aiutato la signora Drake nei preparativi, arrampicandosi sulle scalette, sistemando qua e là zucche e allacciando i cavi per appendere le lampadine colorate. Uno di loro doveva aver posato come principe azzurro per le fotografie destinate a ragazzine ingenue e romantiche. Incidentalmente, avevano proprio l'età adatta per essere in prima fila tra i sospetti, secondo l'ispettore Raglan, e a quanto pareva anche secondo un anziano giardiniere. Negli ultimi anni il numero di delitti commessi dai giovani della loro età era notevolmente aumentato. Personalmente Poirot non era propenso a sospettare di loro, tuttavia restava possibilista. Persino quell'omicidio commesso circa tre anni prima poteva essere opera di un ragazzo, di un giovane o di un adolescente. Per il momento Poirot respinse queste considerazioni di fondo e, mentre procedeva a valutare i due che aveva davanti, ne studiava l'aspetto, la voce e gli abiti, nascondendo il suo esame dietro lo schermo che usava abitualmente, uno schermo fatto di parole lusinghiere e di caricata ostentazione, che doveva indurli a sottovalutarlo, persino a disprezzarlo bonariamente e a mascherare il loro giudizio con impeccabile cortesia. Entrambi i fatti davano prova di un'ottima educazione. Nicolas, il maggiore, era un bel ragazzo con i capelli un po' a lunghi sul collo e indossava un abito nero piuttosto funereo. Non in segno di lutto per una perdita recente, ma perché evidentemente il nero rappresentava per lui il massimo dell'eleganza. Desmond portava una giacca di velluto rosa, calzoni mauve e una camicia ornata di gale. Era chiaro che tutti e due dovevano spendere parecchio per vestirsi, che non compravano i loro abiti in qualche negozietto locale e che probabilmente se li pagavano da sé senza ricorrere ai genitori. Desmond aveva i capelli rossicci e un'abbondante peluria sugli avambracci. «E dunque, quel mattino, quel pomeriggio, avete contribuito ai preparativi della festa», disse Poirot. «Nel primo pomeriggio», precisò Nicolas. «Che cosa avete fatto esattamente?» «Ho sentito parlare di quei preparativi da diverse persone, ma non ne ho un quadro ben chiaro, non tutte le versioni collimano. Ci siamo occupati soprattutto dell'illuminazione e poi delle decorazioni che bisognava appendere al soffitto. Ho sentito parlare anche di certe belle fotografie». Desmond si tolse di tasca una busta e ne sfilò alcune, con aria d'orgoglio. «Queste le avevamo preparate prima», spiegò. «In certe cose le ragazze non cambiano mai, però non si può rifilargli delle vecchie foto, loro vogliono tipi alla moda, mica male, eh?» Porsè le fotografie a Poirot, che le osservò interessato. Un giovane con folta barba rossiccia, un altro con un'aureola di capelli biondi, un terzo con i ricci che gli arrivavano alle spalle, e poi un assortimento di basette, baffi, barbe. «Le abbiamo fatte tutte diverse. Sono riuscite bene, vero? Vi siete procurati molti modelli, vedo?» «No, no», rispose Desmond. «Siamo sempre noi due, truccati in modo diverso. Io fotografavo Nick e lui fotografava me. Per trasformarci puntavamo soprattutto sui capelli». «Siete molto abili», li elogiò Poirot. «Abbiamo fatto delle fotografie un po' sfocate per avere una certa aria di apparizioni», gli spiegò Nicholas. «Alla signora Drake sono piaciute molto. Ci ha fatto le congratulazioni. Comunque quel pomeriggio ci siamo occupati soprattutto dell'illuminazione. Bisognava sistemare un paio di lampade in modo che quando le ragazze guardavano nello specchio uno dei due poteva mettersi in posizione strategica e loro vedevano apparire la sua faccia. Naturalmente con i capelli giusti, la barba, le basette e così via». «Ma le ragazze sapevano che si trattava di voi due?» «Oh no, non credo proprio che ci abbiano riconosciuto nello specchio. Nicholas e io ci alternavamo e avevamo scogitato un sistema rapidissimo per truccarci e poi loro non erano abbastanza furbe per riconoscerci. Ridevano, strillavano. È stato divertente». «Quante persone escerano nel pomeriggio? Non pretendo che ricordiate tutti quelli che partecipavano alla festa». «Al party eravamo più o meno una trentina, direi. Nel pomeriggio oltre alla signora Drake c'erano la signora Butler, la signora Whitaker, la cognata dell'organista che si chiama Flutterbatt o qualcosa di simile e poi la signora Lily, infermiera del dottor Ferguson. Quello era il suo pomeriggio libero e lei è venuta ad aiutarci». «C'erano anche delle ragazze che dovevano rendersi utili, ma in complesso hanno fatto ben poco. Se ne stavano lì a ridere spettegolare». «Capisco. Ricordate chi erano quelle ragasse? Dunque c'erano la Reynolds, la povera Joyce e sua sorella Anne. Un tipo insopportabile quella Anne. Si dà un sacco di ari e crede di essere un genio. Beh, a scuola è molto brava, certo, e passerà gli esami con il massimo dei voti. Poi c'era il fratello minore, Leopold, un ragazzino odioso, uno di quelli che spiano, rigliano, raccontano frottole. C'era anche Beatrice Harley e Kathy Grant, più un paio di domestiche, e infine la scrittrice, quella che vi ha chiamato qui. Nessun uomo? Il parroco ha fatto un salto là, è un bravo uomo, un po' insignificante magari. È venuto anche il nuovo vicario, uno che balbetta quando è nervoso, ma non si è affermato molto, non mi viene in mente nessun altro». «E a un certo punto avete sentito Joyce raccontare di aver visto commettere un omicidio». «Io non l'ho sentita», dichiarò Desmond. «L'ha proprio detto?» «Neanch'io», intervenne Nicholas. «Ma forse non c'ero mentre lo raccontava. Dov'era Joyce quando lo ha detto?» «Nel soggiorno». «Beh, sì, erano tutti là, tranne quelli che stavano facendo qualche cosa altrove. Nick ed io siamo rimasti a lungo nella stanza dove si sarebbe fatto il gioco degli specchi, poi siamo andati sulle scale per sistemare le lampadine colorate. Nel soggiorno saremo tornati due o tre volte per portare le zucche e per appendere un paio di cose che erano state svuotate e avevano dentro dei lumini. Ma non ho sentito Joyce raccontare una storia simile mentre ero là. «E tu, Nick?» «Neanch'io. Joyce ha proprio detto di aver visto commettere un omicidio. Interessante, molto interessante». «Perché?» domandò Desmond. «Beh, ha avuto una percezione extrasensoriare, voglio dire. Ha visto commettere un assassino e poche ore dopo è stata uccisa. Penso che abbia avuto una specie di visione. È una cosa che dà parecchio da pensare, no? Ho letto di quegli ultimi esperimenti che hanno fatto. Pare che per stimolare le percezioni extrasensoriali applichino un elettrodo nella vena giugolare. Ma bisogna essere molto giovani per fare certi esperimenti. I ragazzi rendono più degli adulti». Hercule Poirot, che non aveva voglia di ascoltare quella discussione ad alto livello scientifico, si affrettò a intervenire. «Mettre eravate a casa Drake, non è successo nulla che vi è sembrato sinistro o comunque significativo, qualcosa che probabilmente nessun altro avrebbe notato ma che potrebbe aver colpito la vostra attenzione?» Nicholas e Desmond corrugarono la fronte, frugandosi nella memoria alla ricerca di qualche fatto speciale. «No, c'era la solita confusione che c'è quando si prepara una festa». «Voi non avete qualche idea in proposito?» chiese Poirot a Nicholas. «Se immaginiamo chi può aver ucciso Joyce, volete dire?» «Sì, potreste aver notato qualcosa che da adito a sospetto, magari su basi puramente psicologiche». Nicholas tornò a emergersi in profonde riflessioni, ma Desmond esclamò quasi subito. «Scommetto che è stata la Whitaker». «La signorina Whitaker, l'insegnante?» «Sicuro? È una vecchia zitella, affamata di sesso. Molte donne che passano la vita insegnando sono delle inibite. Un paio d'anni fa una delle insegnanti è stata strangolata. Era un tipo strano, dicono». «Una lesbica?» domandò Nicholas. «Non mi sorprenderebbe. Ricordino ora Ambrose la ragazza con cui viveva? Non era niente male, aveva dei corteggiatori e quell'altra le faceva delle scenate tremende. Non voleva che uscisse con gli uomini. Qualcuno diceva che l'Ambrose era una ragazza madre. Quando ha chiesto sei mesi di aspettativa ed è andata a non so dove a curarsi di non so quale malattia, è corso a voce che aspettasse un bambino. Vabbè, se ne dicono di tutti i colori in questa fucina di pettegolezzi». «La Whitaker ha passato quasi tutto il pomeriggio nel soggiorno, quindi deve aver sentito quello che ha detto Joyce. Potrebbe essere stata proprio lei ad affogarla, no?» «Quanti anni avrà la Whitaker secondo te? Più di 40? Direi che è sulla cinquantina. Le donne diventano un po' strane a quell'età». «Scommetto che se è stata la Whitaker la signorina Emlyn lo sa», disse Nicholas. «Lei sa sempre tutto di quello che succede nella sua scuola». «E credi che sarebbe stata zitta? Forse si sente in dovere di proteggere un'insegnante?» «Non sono d'accordo», replicò Desmond. «Se fosse convinta che Elisabeth Whitaker dà i numeri lo direbbe, altrimenti lei potrebbe far fuori chissà quante altre ragazze. E se fosse il vicario? Mi sa che potrebbe essere un po' suonato, magari ha la fissazione del peccato originale e quella sera l'acqua e le mele gli hanno fatto perdere la testa. Sicuro, potrebbe essere andata così. Dopotutto è arrivato qui da poco, nessuno lo conosce bene. Magari è stato il gioco dell'uva passita a fargli venire l'idea. Tutte quelle fiamme gli sono sembrate il fuoco dell'inferno». Allora ha preso Joyce per mano e le ha detto «Vieni con me che voglio mostrarti qualcosa». Poi l'ha portata di là e l'ha fatta inginocchiare. «Io ti battezzo», ha detto, e le ha spinto la testa nel secchio. «Capisci? Così tutto quadra. Adamo e Eva, le mele, il fuoco dell'inferno, il battesimo nell'acqua che monda ogni peccato». «Forse prima di ucciderla si è denudato davanti a lei», disse Nicholas. «In questi delitti c'è sempre uno sfondo sessuale». I due ragazzi guardarono Poirot con un sorriso soddisfatto. «Ebbene», disse Poirot, «mi avete senz'altro fornito qualcosa su cui riflettere». Capitolo sedicesimo. Hercule Poirot osservò con interesse la signora Goodbody. Era certamente il tipo ideale per impersonare una strega. Il fatto che avesse un carattere amabilissimo non bastava a cancellare l'impressione che dava la sua faccia. «Sì, anch'io c'ero quella sera, naturalmente», raccontò. «Quando c'è da fare la strega, chiamano sempre me? L'anno scorso, dopo il corteo storico, il parroco mi ha detto che ero stata bravissima e mi ha regalato un nuovo cappello di pan di zucchero. Anche i cappelli delle streghe si consumano, sapete?» «Sì, c'ero anch'io a quella festa. Compongo le poesiole da recitare alle ragazze, una per ciascuna, perché i versi devono far rima con il loro nome. C'era da morire da ridere, ve lo garantisco. Avreste dovuto vedere come si erano conciati Nicolás e Desmond. Ebbè, il signorino Desmond si concia sempre per dire la verità. L'ho incontrato l'altro giorno e se vi dicessi com'era vestito non ci credereste. Aveva una giacca di velluto rosa e una camicia con legale. Ma torniamo a quella festa. Quando ci sono andata ho portato alla signora Drake la mia sfera magica. La vedete? E quella la pesa vicino al cabinetto. L'ho comprata a una pesca di beneficenza. Bella, eh? Di un blu così luminoso. «Voi predite l'avvenire?» «Non dovrei dirlo, vero?» La signora Godbody ridacchiò. «La polizia non vede di buon occhio le indovine. Però non possono aver niente da ridire su quello che predico io. Sempre cose vere. Non imbroglio nessuno. In un posto come questo si sa tutto di tutti. È così facile. Non c'è bisogno di inventare». «Non potreste guardare dentro la vostra sfera magica e vedere chi ha usciso quella ragazzina Joyce Reynolds?» «Forse non avete capito. Quella è una comune sfera di cristallo. Non ha niente di magico. E poi, se vi dicessi chi l'ha uccisa, secondo me non ci credereste. Vi sembrerebbe una cosa contro natura. Ma a questo mondo succedono tante cose contro natura. Probabilmente avete ragione. In complesso, questa è una buona comunità. E si vive bene qui. La gente è onesta, ma il diavolo sa il fatto suo e riesce sempre a prendersi qualche anima da dannare». «State parlando di magia nera?» «No, naturalmente no», rispose la signora Goodbody sprezzante. «La magia nera è buona solo per le persone che si divertono a travestirsi e a fare un mucchio di pazzie, sesso e altro, sapete. No, io intendo quelli che il demonio ha toccato con le sue mani, che sono nati così, i figli di Lucifero». «Per loro uccidere è più facile di un gioco, e non significa niente se gli conviene farlo. Quando vogliono qualcosa, sono pronti a tutto pur di ottenerlo. Possono essere belli come angeli. Ho conosciuto una bambina tanto tempo fa. Aveva sette anni. Ha ucciso il suo fratellino e la sua sorellina, due gemelli di cinque o sei mesi, nella loro carrozzina». «Questo è accaduto a Woodley Common?» «No, è stato nello Yorkshire, se ben ricordo, e lei era una bambina bellissima. Si sarebbe potuto attaccarle un paio d'ali alle spalle, metterla su un palcoscenico a cantare in di natalizi e tutti l'avrebbero presa per un angelo. Ma dentro era guasta, marcia. Capite quello che intendo? Non siete più giovane e lo sapete quanta malvagità c'è nel mondo». «Purtroppo sì, avete ragione, lo so», rispose Puoro. «Se Joyce Reynolds ha realmente visto commettere un omicidio». «Chi ha detto che l'ha visto?» Lo interruppe la signora Goodbody. «Lei stessa?» «Allora non c'è motivo di crederle, è sempre stata una gran bugiarda». Gli rivolse uno sguardo scrutatore. «Ma forse voi non credete che Joyce abbia mentito?» «Sì, lo credo. Me l'hanno detto troppe persone perché possa continuare a dubitarne». «Nelle famiglie saltano spesso fuori dei tipi strani», disse la signora Goodbody. «Prendete Reynolds, per esempio. Lui è un agente immobiliare. Non ha avuto molto successo e non ne avrà mai. Sua moglie è una donna nervosa che si preoccupa e si agita per tutto. Nessuno dei tre figli ha preso dai genitori. Anne la maggiore è molto intelligente, studia e andrà all'università. Ma non mi meraviglierei se diventasse un insegnante. Sa di essere brava e si dà tante arie. Così non riesce simpatica a nessuno e i ragazzi le girano alla larga. Poi c'era Joyce. Lei non era intelligente come Anne e nemmeno come Leopold, il fratello minore. Ma avrebbe voluto esserlo. Voleva sempre saperne più degli altri e fare meglio degli altri. Si sarebbe inventata qualunque storia pur di farsi notare. Ma non bisognava crederle. Nove volte su dieci mentiva». «E il ragasso?» «Leopold? Ha soltanto nove o dieci anni, credo. Ma è in gamba. Sa fare tante cose, è bravo in matematica e vuole studiare fisica. Penso proprio che diventerà uno scienziato. Ma sarà uno di quegli scienziati che non lavorano per il bene del mondo. Che inventano cose come le bombe atomiche. Non bisogna fidarsi di Leopold. È un tipo subdolo che origlia, spia e fa brutti scherzi alla gente. Scopre sempre i segreti di tutti. Vorrei proprio sapere come si procura tutto il denaro che ha in tasca. I suoi genitori non glielo danno di certo. Non possono permetterselo. Ma lui ha sempre molto denaro. Lo tiene nascosto in un cassetto sotto i calzini e si compra tante cose costose. Dove andrà a prenderlo? Mi piacerebbe saperlo. Secondo me, quando ha scoperto i segreti di qualcuno, si fa pagare per tenere la bocca chiusa». La signora Goodbody fece una pausa per riprendere fiato. «Beh, temo di non potervi essere utile», concluse. «Mi siete stata utilissima, invece», replicò Cuoro. «Che ne è stato di quella ragazza straniera che, a quanto dicono, sarebbe fuggita?» «Non è arrivata molto lontana, secondo me. Conoscete quella canzoncina? Dice Din Don Dan, nel pozzo il micio sta. Io la penso così, almeno». Bentornati su Narrazioni Senza Importanza. Un capitolo molto simpatico e divertente, quello tra Desmond, Nicolas e Poirot, dove ci sono proprio i punti di vista divergenti tra giovani e meno giovani. In realtà è un tema che ritorna anche ai giorni nostri, non passa mai di moda. Questa differenza tra vecchi e giovani. E un altro capitolo con alcuni accenni molto interessanti con le opinioni della signora Goodbody, in particolare su Leopold e su certe sue strane e misteriose abitudini. Come sempre vi ringrazio per essere state in mia compagnia. Se il mio progetto vi sta piacendo, potete sostenerlo, iscrivendovi al canale, mettendo un like, un commento, condividendo il video. Potete venirmi a trovare anche su Instagram, Narrazioni Senza Importanza. E come sempre io vi aspetto al prossimo capitolo. Alla prossima!